Sì, 2 euro, ma parco giochi dove è finito, un culo a mamma Ha chiamato prima Epic Games Scusa, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta No, no, aspetta, aspetta, aspetta No, 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 ma... Mo' risolvo subito, aspettate, chiamo quello di Epic Games in persona, aspettate Zitti, zitti, zitti un attimo Zitti Ti senti? Se mi risponde Prova non lo so Riprova Prova attacco riprova Aspetta attacco riprovo Che sei scemo Un deficiente Dopo ti spiego Stiamo trasferendo il tuo chiamato Alla segreteria telefonica Un deficiente Mi tocca chiamare un altro Vai Stupido E qui ci aspetta un invito Vediamo se Ma questo è deficiente Ma che cazzo No c'è un altro Dei big games Questo parla pure inglese Davvero Parla inglese Scommetti che se mi risponde Parla inglese Hello Hello Jennifer Yeah Hello Jennifer My My fan Me chiedono Ok New modality On fortnite What was it New modality I don't know I don't know Why I don't know You Just for fun You just You savana bitch You No 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 You No you work on the fortnite You is president Is credible On fortnite Where is it New modality Why Why C'è la mamma Checo bomba Why Ok Quindi New modality Maybe Agosto 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 Settembre Agosto Settembre Yeah Park Park game Park giochi Yeah Ok And One question For you Please Jennifer Yeah My friend Ninja Yeah Where is it Yeah Fine Ok Jennifer You're seven A bitch You No you Jennifer You No Jennifer Jennifer You're seven A bitch Fuck you Ma Ok Ok Mi ha detto che dopo mi fa sapere ragazzi Perché voi non sapete l'inglese Ma mi ha detto che dopo mi fa sapere Ah ok Dopo mi fa sapere Avevo il non disturbare avevo Tu sei un disturbo Proprio capito Allora chat Come vi permettete a dire che era Yure? No seriamente Come vi permettete? Era Jennifer Ma ero chi? Ero a bere io Ehe Ehe Ehe